allora ragazzi eccoci come promesso per i 500 iscritti faccio il drop test del orologio hunkitel bt 50 proveremo a farlo cadere da diverse altezze e su diverse superfici e vediamo che resiste in più alla fine del video c'è un bonus che assolutamente dovete vedere l'orologio questo è ovviamente funzionante ha qualche graffio sulla pellicola di protezione dovuto ai test che ho fatto e adesso facciamo il drop test iniziamo con cadute da circa un metro un metro e mezzo su superficie morbida che è questo il tavolino che pelle poi proveremo su sul tappeto quindi sempre da un metro e mezzo un metro metro sul tappeto per finire sul piastrelle sul pavimento e faremo diversi diciamo test partendo sempre da un metro andando poi un metro e mezzo e fino ad arrivare a due metri circa due metri qualcosa io sono alto 273 circa uno 64 e lo lascerò cadere dalla da questa altezza con tutto il braccio steso e faremo diverse prove quindi auspicabilmente cadrà sia di faccia quindi con il display verso il basso sia in altre posizioni quindi vediamo speriamo che non si rompa e continui a funzionare test numero uno facciamo cadere da circa un metro in faccia sul tavolino quindi su superficie test direi perfettamente superato test numero due non facciamo cadere da un po' più alto sempre sul tavolino test superato non c'è nulla tutto perfettamente funzionante ok passiamo al test numero tre sul tappeto test numero uno a posto perfettamente funzionante circa un metro e mezzo sempre sul tappeto test numero uno a posto perfettamente funzionante ok ora facciamo circa due metri 3 2 1 funzionante tutto perfettamente funzionante ultimo test ultimo test ora facciamo cadere l'ukitel 20 50 direttamente sulla piastrella sempre a faccia giù quindi partiamo da circa un metro 3 2 1 vediamo ok ok funziona alziamo... facciamo cadere da circa un metro e mezzo... 3 2 1... ai 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 Temo che ci siamo L'UKITEL BT50 non ha resistito A circa un metro e mezzo Di caduta Sul pavimento Il display è proprio completamente andato Aiaiaiaiai Non risponde a no Il comando risponde ancora Ma è proprio completamente andato Display andato Purtroppo Abbiamo fatto il test Come promesso E da un metro e mezzo Circa Avete visto il L'UKITEL BT50 Cadendo di piatto Esattamente di piatto Se avete sentito anche il rumore Bello secco Non ha resistito Il display non ha funzionato C'è comunque un bonus Come vedete da queste immagini Ho utilizzato Il L'UKITEL BT50 al mare Ho fatto un'inversione in apnea A 4-5 metri di profondità E non ha avuto nessun tipo di problema Quindi L'orologio ha superato Anche questo test In teoria È il P68 Se non ricordo male Quindi resiste a un metro di profondità Per mezz'ora Un metro e mezzo di profondità Per mezz'ora Se non ricordo male Ma anche in un'inversione Un pochettino più profonda Quindi 4-5 metri circa Ha resistito Purtroppo non ha resistito Il drop test Mi raccomando Se anche questo video Vi è piaciuto Mettete un bel pollicione di su Che assolutamente Vi dà la carica Per fare altri contenuti Condividetelo E grazie mille Per averlo visto Fino in fondo Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Alla prossima Ciao Ciao